Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua e siamo Elisa Ciao Con Super Tennis Blast, l'avete chiesto in tantissimi un ritorno di questo gioco E noi non potevamo, ovviamente, sottrarci alla richiesta Per cui oggi daremo un'occhiata, perché ci sono diverse cose Allora io vorrei fare, a me sarebbe giocare in multi insieme Però non so se si possa fare Perché, no, mi sa di no No, non si può fare, quindi facciamo il quick play Facciamo il quick play, doppi No, singoli, però io ho conto di te Allora, devi unirti a noi E... bene Premi, eh? Io voglio cambiare personale Premi, eh? Se non... Premi, eh? Bene Vado Io credo che Antonio Tan sia l'ideale Tocca a te Siamo pronti? Allora, facciamo tre set Sei set a gioco Super time Il livello dell'IA non ci interessa perché siamo noi due Partiamo Allora Io sono prontissimo con il mio Con il mio Falcusconi No Potrebbe esserci qualche apparizione fugace Di qualcuno che non ti aspetti Ah sì? Che straccio Niente Oggi sta in forma smagliente Inaspettata... Ho capito come si gioca Inaspettatamente Eh beh Te l'hai bruciata da sola Niente Ma per chi? Niente Bellissimo Bellissimo Tiè Beccate sta palla Ma perché? Ma perché ti chiami Billy Bruce? Te beccate sta palla Vai, vai, vai Io devo assolutamente riprendere Ma perché? Ma cosa mi... Cribbio Dai, dai, dai Tiè Mo se sei al cavaliere Gli devi al giro buono Vedrai che... Che mi ha distratto Ultimamente No Tiè Ma era fuori Ma ma di che? Non capisco perché vado fuori tempo Siamo 40 pari Io ho vantaggio Adesso se... Non c'è Antonino Dan Tiè Pio e porta a casa L'ho presa Sì, tardi Aveva già fatto un altro rimbalzo Tiè Antonino Dan Sei svegliato E quando si sveglia Antonino Dan Non ce n'è per nessuno Hai capito? Aia Hai capito? Tiè Sei svegliato Antonino Aia Perchè c'è se è rallentato... Nooo Ma perchè tiriamo piano? Niente Potere della maschera Potere della maschera Antonino Tan Cribbio Cribbio Non si respira Si soffoca qui dentro Ma perchè fai sempre questa cosa? Mi fa sbroccare Mi fa... Mi doveva incazzare Perchè c'è... Perchè c'è... Cioè sei costata la demonetizzazione In questo... No scherzo Perchè? Eh non si può dire Ma già Per limitare il nostro caro E' una famosa citazione del film Con Pozzetto Che non mi ricordo il nome Non è pasta No è quello dove loro fanno i... I... La... Il ceto dimagrante Che c'è il bambino che si nasconde Dentro la credenza Di quando lo vede Ma quanto mi fa incazzare Nooo Tiè Va alla ricoglie Forza Forza E' il gorri Ma che... Ma che bufio Vabbè Ah ho sbagliato lato Infatti l'ha anche scritto Tu lato Nooo Ah ah Sono in vantaggio Tiè Antonio Tanna Quando gli è via Al momento mascherato Ma che... Che sleppete E' via Ma ho capito perché si chiama Billy Bruce C'è il braccio che incava armato Altro che... Io pensavo... O è tipo Serena Williams Che nel mignolo c'ha tutti i muscoli che io c'ho tutto il corpo Che nel mignolo c'ha tutti i muscoli che io c'ho tutto il corpo ma... Antonino si è fomentato e ha detto... Ah oh magari ne ha detto Cribbio mi devo sbrigare Mi aspettano Ah oh non era proprio... Tiè... È carico è carico Antonino Tiè... Ha capito il tempismo Antonino per colpire Tiè... Ormai... Uffa Io ho capito perché il tuo c'ha la gonna comunque È un maschio... È una femmina Ma non è una... Si chiama Bruce Vabbè che stiamo in un'epoca un po' particolare Però se ti chiami Bruce Non puoi essere una femmina Credo Non si sa Non si sa Ti dici tutto può essere Non lo so magari il cognome No 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 E par caccia la miseria Sei Primo set Allora Sette Il primo ad arrivare a due set Perché se no finiamo l'anno del mai Ho messo sei Ho messo la durata dell'incontro regolare Finimo l'anno prossimo Quindi siamo 1 a 0 Mi stai a perdere i colpi Ecco Bruce Che fa parte Si chiama Billy Bellissimo Io non guardo l'angolazione È quello che devi guardare Aia Tiè L'ha proprio visto Hai visto Con che orgoglio Nel colpo Tiè Eh niente Ormai Antonino è entrato In una sorta di Se te vai Oh io posso colpire solamente qui Eh Non posso sparare dall'alto Sparare poi Non posso colpire l'atto quadrante Sulla battuta Sulla battuta Devi colpire sempre Il lato opposto al tuo Elisa non conosce Questo silenzio è piuttosto eloquente Quando Elisa è in silenzio Perché sta riflettendo Con un'intensità Proprio incontrollabile Per non parlare io E' lì E' lì Tron 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 Ma parca Stavo dicendo Se io batto da qui Vedi Che non posso andare oltre qua Posso colpire solamente Dentro questo punto qua Ah ok ok Se vado qui E' fallo Se vado qui E' fallo Se vado qui E' fallo L'unico punto che vale è qua Quindi tu devi coprir quello Bello che io te l'abbia spiegato Dopo Dopo due video Ma Mentre Sul resto Eh ma Fica miseria Sul resto Delle situazioni L'unico punto da evitare Sono i due corridoi Bellino Niente Tiè Lungolinea Qua si Si frega sempre la gente Con lungolinea No Ci siamo quasi Perché T'ho appena spiegato Come funziona Perché ti arrabbi Se perdo Sei contento Si va bene Ma Ti ha spaccato il naso Ovviamente Oh non ti riesco Ma perché Te ne vai Me ne sono accorta Dopo Vantaggio Dai Andiamola a chiudere Niente Ti so Gli piace Annassene Ma perché Ma ero di Categoria Tennis Non ti gioca mai I soldi Con qualcuno A tennis Te prego Consumo più energia Avrei un fiatone Che c'è in futuro Nel tennis Poi che frustrazione Fattelo dire Bene Allora Perché liscio Antonino Niente Io guarda Se te vedo Andando alla parte Opposta Te levo il pad Arca miseria C'hai un Very good Niente Non ce la faccio Ma c'hai il tira effetto Stacchia 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 Perché ho fatto ciò Niente Ma cosa fa il mio Poi Guarda Che effetto Oribile Con la gammetta Ah Too late Penso che sia Dritto Rovescio Top spin Te Beccate questa No Stacchia 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 Ho spaccato pure tutto Ho fatto una presaglia Che male Yes Bene Io No A parte che la c'è Io le do appunto Bella Che stretta di mano è Signori Alla prossima Ciao 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 Ciao